Riggi facciamo un giretto salta su salta qua ehi 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 non dovete fare un gire niente guarda che cade qua no? andiamo a fare la spesa? ecco il saltagatto lì dove sta il gregetto come fare uscire il gregetto? guarda l'elastico su in equilibrio su in equilibrio stai in piedi grigie non si origina la telecamera? ora metterò in pentaglio la mia stessa vita guarda la telecamera ciao 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 oh 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 cazzo ciao fate un ultimo giretto guarda non ti ci vuole più madonna mia ciao 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 ultima scalata ultima scalata ultima scalata ciao 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 ciao